Buongiorno a tutti, siamo ormai vicinissimi a Pasqua, anzi siamo proprio all'inizio della Settimana Santa, la Domenica delle Palme. La Domenica delle Palme apre alla Settimana Santa, che per noi cristiani è la settimana delle settimane e credo possiamo proprio fermarci su questo concetto. Noi siamo fatti di tempo, noi viviamo nel tempo, siamo fatti di ore, di giorni, di mesi, di anni e siamo fatti di tutto ciò che avviene nel tempo, di paure, timori, speranze, ricordi, attese, ma anche fatiche. Noi viviamo nel tempo e viviamo in un tempo che ogni tanto fatichiamo a riconoscere come sensato e allora sono state create le feste che cercano di dare ritmo al tempo e in modo particolare è stata creata la Settimana Santa. La Settimana Santa è la settimana delle settimane che dà un senso a tutte le settimane che viviamo nell'anno e allora è importantissimo il giorno delle Palme introdurci in questa Settimana Santa dove vedremo soprattutto che cosa? Vedremo una vittoria, una grande vittoria, la vittoria della Pasqua, la vittoria che dice nel tempo, nel tempo che tu vivi c'è sempre una prospettiva, c'è sempre un'apertura, c'è una festa che ti attende. Bellissimo! E insieme vivremo una tragedia, una tragedia incredibile, la condanna di un innocente, il dolore di un crocifisso, l'urlo di uno che si vede crollare il mondo addosso e sente Dio lontano, Dio mio dove sei finito, Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato. Vedremo la tragedia di persone che se ne vanno, che ti abbandonano e vedremo addirittura la morte e dunque ciò che succede spesso a volte nel fluire del tempo, il dolore, il non senso, l'ingiustizia, la malattia, la morte e lì noi impareremo che anche quando non ci vedi un senso c'è un ultimo ulteriore senso, stare in Dio. E allora la settimana santa con questa vittoria e questa tragedia messe insieme ci dicono come stare nel tempo e stare nel tempo come è stato Gesù Cristo in croce, cioè con grande fiducia nel Padre e con totale dedizione. Gesù è stato così in croce, fiducia nel Padre, è riuscito a dire nel momento in cui gli crollava il mondo addosso di un Dio così possiamo fidarci, di un Dio così possiamo fidarci, fantastico, così noi vogliamo stare nel tempo, imparare a fidarci di un Padre buono e nello stesso tempo è stato totalmente dedicato. Tu giocati la vita e il senso verrà fuori, piano piano. Nella giornata delle palme che inizia la settimana santa è tradizione ricevere il ramo d'ulivo, molti di noi andranno a ricevere questo ramo, lo porteranno in casa, lo otterranno come segno di benedizione. Ma è interessante iniziare la settimana santa ricordandosi il significato di questo ramo che ha parecchi significati. Il primo è il significato di rigenerazione perché il rametto d'ulivo è quello che noi troviamo al tempo del diluvio, finito il diluvio la colomba torna e ha un rametto d'ulivo. Per dire quasi, la colomba non può parlare, ma con quel ramo d'ulivo dice a Noè possiamo tornare a vivere, possiamo tornare a vivere, dopo il disastro del diluvio si può tornare a vivere. E dunque il ramo d'ulivo nelle nostre case ci dirà possiamo vivere, in nome della Pasqua del Signore possiamo vivere, credere alla vita in qualunque momento della nostra vita. Ma sappiamo che l'ulivo è anche simbolo di pace. Pace si può interpretare in tanti modi, a me piace sempre ricordare un bellissimo dipinto di Picasso che c'è a Valoris, in costa azzurra, dove Picasso su una parete dipinge la guerra e una parete dipinge la pace. La guerra la dipinge per prima e sono tanti episodi di violenza, poi dopo si gira e dice e come posso dipingere la pace? E pensa, passano giorni, un giorno un amico gli dice sai come puoi dipingere la pace? La pace è un tempo in cui tutto è possibile, in cui un bimbo potrebbe arare il mare e allora è bellissimo, lui dipinge un bimbo che arare il mare e intorno tutto è possibile, cioè ci sono la pace un tempo in cui ci sono tutte le possibilità per far qualcosa di buono. E allora questo ramo ci potrà ricordare questo, che ogni giorno è pieno di possibilità per far qualcosa di buono e di bello e questo è il modo per creare la pace. Naturalmente è anche simbolo di riconciliazione, era dopo il diluvio il momento dell'alleanza, la pace si costruisce creando rapporti nuovi. Ed è anche simbolo, appunto l'ulivo è quell'albero i cui frutti, le olive vengono pigiate, pestate, schiacciate e ne esce olio, ci ricorda il sacrificio di Cristo. Si può creare pace perché Gesù Cristo morto ci dona lo spirito di pace che ci aiuta a riconciliarci, a creare, sfruttare le possibilità di bene e far qualcosa di buono. E dunque con questo simbolo vogliamo davvero augurarci una buona settimana santa. Grazie.